Ciao, parliamo in una decina di minuti di Ursula Downs, investigatrice della classe studioso che arriva a collera dimenticata con lo scopo di capire come questo investigatore può ben funzionare per le vostre partite. Allora, Ursula ha 3 di testa, 4 di libro, 1 di pugno e 4 di piede. Ha una salute di 7, una salita mentale di 7. Ha un innesco di reazione che dice dopo che ti sei mosso fino a un luogo, effettua un'azione di indagine limite di una volta per round. L'effetto del segno degli antichi più 1, dopo che questa prova è terminata, puoi muoverti fino a un luogo collegato. Il retro invece ci dice che la dimensione del suo mazzo sono 30 carte, che le opzioni del suo mazzo sono molto lineare, cioè carte studioso di livello 0,5, carte reliquia di livello 0,4, carte neutrale di livello 0,5. Come requisiti del mazzo, non considerato nella dimensione del mazzo, Jake Williams, richiamo dell'ignoto e una debolezza base casuale. Allora, andiamo a vedere subito le sue carte di firma, e poi facciamo delle considerazioni su questo investigatore, su questa investigatrice, che devo dire, a me scalda sempre un po' il cuore, sia per la sua semplicità e facilità di deck building, sia anche per la sua capacità di fare action advantage all'interno della classe studioso. Allora, Jake Williams è un supporto alleato, alleato esploratore dal costo 3, 3 salute, 2 sanità mentale, solo mazzo di Ursula, la prima azione di movimento o indagini che effettano ogni turno non provoca attacchi di opportunità, e l'innesco di reazione dice, dopo che hai aperto un luogo o messo in gioco un nuovo luogo, esaurisci Jake Williams, pesca una carta. Il richiamo dell'ignoto, debolezza abbastanza importante, che dice, rivelazione, metti in gioco il richiamo dell'ignoto nell'attuare di minaccia, obbligo, all'inizio del turno, scegli un luogo diverso dal tuo. Quando il tuo turno termina, se non hai indagato con successo in questo luogo, in questo turno nel luogo scelto, subisci due errori e rimescola il richiamo dell'ignoto nel tuo mazzo. Lo scopo di questo video non è tanto esaurire tutte le possibili combinazioni e utilizzi di Ursula, quanto darvi uno spunto su come utilizzare al meglio questo investigatore e quali sono le carte che possono funzionare in maniera efficace. Partiamo dalle opzioni del mazzo, che ci danno sempre un'idea su quella che è la direzione che questo investigatore, questa esploratrice, andrà a prendere. Beh, la nostra Ursula di fatto è una studiosa, punto. Può aggiungere carte reliquie di livello 04 che le danno accesso a una serie di vantaggi, ne vedremo qualcuna, però di fatto Ursula è una studiosa. Muoviamoci quindi alle statistiche. Ha le statistiche da studiosa? Ebbene sì, perché ha questo 4 di base di libro che la rendono sicuramente interessante con le capacità, diciamo, del giallo, in un open pool, ma anche fino all'era dimenticata, di boostare questo valore, e poi ha un 4 di piede, il che la rende ideale per, qualora si dovesse andare a incontrare un nemico, eluderlo, evaderlo, piuttosto che andare a sconfiggerlo con quell'1 di pugno. Parliamo ora della sua abilità, del suo innesco di reazione, che è molto simile a un'azione, e quindi Ursula diventa un po' paladina del concetto di action advantage, cioè dopo che ti sei mosso fino al luogo, effettua un'azione di indagine, limiti di una volta per round. Che cosa significa? Significa che noi, quando muoviamo, apriamo quel luogo, anche se non è necessario che quel luogo sia chiuso, potrebbe essere aperto, ed effettuiamo un'azione di indagine, una volta per round. Allora è interessante perché? Perché noi possiamo anche utilizzare azioni di indagine, per esempio come quelle sul kit di impronte digitali, cioè utilizzando indaga, intanto che abbiamo la parola chiave in grassetto indaga, possiamo utilizzare anche appunto dei supporti, come in questo caso il kit per impronte digitali. Ovviamente il senso qual è? Che noi muoviamo, indaghiamo, e abbiamo di fatto ancora due azioni, quindi quello che potenzialmente possiamo arrivare a fare, è che muoviamo, indaghiamo ancora due volte, e quindi è come se leggessimo questo investigatrice, con muoviti gratuitamente e indaga tre volte. Non è la stessa cosa, potrebbe essere che a volte voi muoviate, indagate, muoviate di nuovo, e fate un'altra azione di indagine in un altro luogo, dipende ovviamente anche dal numero di giocatori, in true solo questa carta, come dire, vi permetterà di liberare luoghi velocemente, in multiplayer, per meno, chiaramente, però il concetto che ruota tutto intorno a Ursula è questo. Il suo 3 di salute, il suo 3 di testa che non avevamo commentato prima, in realtà è un'ottima base di partenza per far fronte alle treceri del mazzo incontri. Ecco, se in Arc Amorror c'è una regola, che è quella per cui gli investigatori che escono in quella espansione sono buoni nell'espansione in cui sono usciti, beh, allora Ursula lo è effettivamente nell'era dimenticata, perché è un'espansione, una campagna dove ci sono luoghi che entrano, che dobbiamo muoversi, dove la parola chiave vendetta dei nemici rende una strategia, quella di eluderli, quella di evaderli, invece di sconfiggerli, mettere nel victory display, nel riquadro della galleria delle vittorie, e quindi Ursula brilla particolarmente in quell'avventura, ma più in generale devo dire che Ursula può benissimo far parte di un party nel quale occupa il ruolo che le compete, che è proprio quello del seeker, cioè quello dello studioso. Per quanto riguarda le sue due carte di firma, beh, allora, sicuramente Jake Williams è una carta ottima, perché la sua abilità, il suo nesco di reazione è, dopo che hai aperto un luogo, messo in gioco un nuovo luogo, esaurisci Jake Williams e pesca una carta, quindi ovviamente il fatto che sinergizzi con la sua capacità di, con la capacità di Ursula di andare a muoversi, lo rende sicuramente interessante. Anche il fatto che la prima azione di movimento indagine che effetta ogni turno non provoca attacchi di opportunità, può avere il suo senso. Ecco, non mi sono trovato a usarlo tantissimo, anche perché ho preferito usare generalmente con Ursula altre carte che andremo a vedere tra poco, però è chiaro che anche solo per aumentare il suo pool di punti ferita è una carta che ha un suo vantaggio. Per quanto riguarda la debolezza, il richiamo dell'ignoto, molto bella e molto tematica, è una debolezza impegnativa. Perché? Perché di fatto vi dice che noi dobbiamo muoverci in quel turno e indagare con successo. Ora, molto spesso questo è ciò che Ursula fa, ma potrebbe non, come dire, non essere il momento in cui questa cosa deve essere fatta. Potrebbe essere che ci costringa ad andare indietro, potrebbe essere che siamo in un punto della partita dove non possiamo, non abbiamo azioni da sprecare. E quindi il richiamo dell'ignoto ci dà fastidio. Il problema vero è che se non abbiamo fatto questo, subiamo due errori, e due errori non è poco, e soprattutto dobbiamo rimescolare il richiamo dell'ignoto nel mazzo. Quindi è una treceri che potenzialmente può dar fastidio. Non è forse tra le peggiori, non è sicuramente tra le migliori, però, come dire, rappresenta bene questo desiderio poi di Ursula anche di essere richiamata verso l'ignoto, nonostante il fatto si trovi magari nel pieno di un'avventura dell'era dimenticata. Bene, quali sono le carte che possono funzionare con Ursula? Allora, il concetto è questo. Ursula deve indagare, Ursula deve muovere, meglio se fa entrambe le cose. non combatte nella maniera più assoluta e quindi i nemici dovrà eluderli, dovrà andarsene velocemente. Quindi tutto ciò che porta a migliorare il suo action advantage e a rendere le partite più veloci, cioè investigare veloce, liberare i luoghi, proseguire velocemente con i capitoli, è benvenuto per Ursula. In aggiunta, il suo tratto reliquiale dà accesso ad alcune carte, diciamo, esotiche, che adesso vediamo, ve ne propongo qualcuna, che possono in qualche modo migliorare la sua capacità. Allora, carta ovviamente interessantissima è la scorciatoia, perché? Perché questa significa movimento con action advantage, quindi veloce, gioca durante il tuo turno, sei un investigatore nel tuo luogo, muovilo fino al luogo collegato. Può essere se stesso, può essere un altro investigatore e ovviamente sinergizza con la sua capacità di reazione, il suo nesco di reazione, perché si muove in un luogo senza di fatto usare azioni. Portando all'estremo, muoviamo Ursula, investighiamo e abbiamo ancora tre azioni da poter fare, grazie alla scorciatoia e alla sua abilità. Carta, ovviamente fortissima, che in qualche modo per Ursula ancora di più è la pripista, quel supporto dal costo 3, un punto esperienza, poi è stato aggiunto nella lista dei tuoi W, durante il tuo turno, se non sei impegnato nessun nemico, esaurisci la pripista, muoviti fino al luogo collegato al tuo. Anche questa non è un'azione, non occupa uno slot delle tre azioni che siano a disposizione, per cui estremizza ancora di più il concetto di action al vantaggio della nostra Ursula. Carta che arriva con la strada per Carcosa e che in qualche modo ci così, anche l'illustrazione ci ricorda un po' la tematica di Ursula, almeno a mio avviso, è il fieldwork, l'intervento in loco dopo che ti sei mosso fino al luogo, se ci sono uno o più indizi su quel luogo è un innesco di reazione, esaurisci l'intervento in loco, ricevi più 2 al valore di abilità della prossima prova di abilità che effetto in questa fase. Chiaramente, anche questo, una volta che ne abbiamo giù il Pathfinder, l'intervento in loco, qualcosa che busta le statistiche di Ursula, beh, ogni volta che noi ci muoviamo apriamo un luogo, facciamo azioni gratuite, investighiamo con più alto valore di skill test, di test, in particolare di libro, e ragionevolmente andiamo a prendere più indizi possibili. Ovviamente questa carta è molto forte in true solo, lo è meno multiplayer, perché? Perché in true solo normalmente i luoghi avranno 1 o 2 indizi, in multiplayer potrebbe averne 6 o 8, e quindi solo per il primo test, a meno che non uso carte specifiche, tipiche degli studiosi, ovviamente la sua efficacia è leggermente ridotta. Tra le varie cose che si possono usare, poi nel tempo ne sono uscite tante, c'è il kit per impronte digitali, è un supporto umano, utilizzo 3 scorte, disaurisci il kit, spendi una scorta, indaga, ricevi più 1 al libro in questa indagine e se hai successo scopri un indizio aggiuntivo nel tuo logo. Ovviamente questa funziona al contrario, cioè in multiplayer o comunque in 2 giocatori è più efficace, perché normalmente ci troveremo sempre almeno 2 indizi, è difficile che ce ne troveremo 1. più in generale tutte quelle carte che migliorano la capacità di Ursula di investigare in quanto studioso possono funzionare benissimo con questa investigatrice. Andandone a prendere una di un'espansione recente, la maschera del topo, The Mouse Mask dell'espansione della Face of Hemlock, per esempio, ma ce ne sono tante, limite di una maschera per investigatore, utilizzo due offerte, rimpiazza una di queste offerte dopo che riveli una location o metti una nuova location in gioco, spendi un'offerta, prendi, ottieni più 2 alla testa o più 2 al libro in questo skill test, che tra l'altro sono entrambe cose che servono a Ursula, al libro per investigare e andare veloce e la testa per resistere a quelle che sono le treceri. Ecco, interessante perché dopo che riveli una nuova location, quindi siccome Ursula molto spesso vorrà muovere e andare a rivelare location, perché è il suo core di action, advantaggio la maschera del topo, può funzionare, ma ce ne sono varie in realtà, cioè diciamo il vantaggio di Ursula è che essendo un seeker puro, quindi senza costruzioni ibride di mazzo, permette di giocare in maniera anche affidabile e lineare carte che fanno parte della classe studiosa. Per quanto riguarda invece la capacità di Ursula di resistere al mazzo incontri abbiamo il dente di Ezli che arriva con l'era dimenticata finché stai risolvendo una capacità sulla carta sventura ricevi più una testa e più uno al piede che diciamo è tematico con l'abilità non tanto con l'abilità di Ursula però è tematico con Ursula perché arriva con l'era dimenticata dopo che ha avuto successo una prova di abilitare risolvendo una capacità su una carta sventura esaurisci il dente di Ezli pesca una carta. Un'altra cosa interessante che arriva sempre con l'era dimenticata è la pietra ctoniana scusate qui è un supporto mano che è reliquia quindi per quello che può essere utilizzata puoi sigillare un simbolino uno dei simbolini teschi occultista e così via dopo che hai rivelato un simbolo falimento automatico durante la prova di abilitare rimetti la pietra ctoniana nella tua mano il vantaggio che si può andare a come dire a filtrare con le capacità tipiche di un mistico e noi lo sfruttiamo perché Ursula può utilizzare le reliquie quelle che sono le carte e scusate i segnalini del caos del mazzo incontri del secchetto del caos che possono in qualche modo dare fastidio un'altra reliquia esotica è l'orologio d'oro da taschino molto particolare straordinario dal costo esagerato che però dice quando una fase inizia rimuove dal gioco l'orologio d'oro da taschino salta questa fase o dopo che una fase è finita rimuove dal gioco l'orologio d'oro da taschino ripeti quella fase ecco questa è una carta di cui abbiamo anche discusso nella Top and Worst dedicata alle carte di Danwich perché appunto fa parte di questa espansione quindi poi vi rimando lì ai pro e contro di questa carta un'altra carta che a me piace abbastanza da utilizzare con Ursula è costosa ma rende Ursula ancora più efficace è la statua grottesca che arriva con la scatola base è una reliquia dal costo di esperienza 4 per cui sta dentro Ursula utilizzo 4 cariche se non ci sono cariche sulla statua scartala quando stai per rivelare un segnalino caos spendi una carica rivela due segnalini di caos invece di uno scegli uno di quei segnalini da risolvere e ignora l'altro cioè come a dire per 4 test che non voglio sbagliare in nessun modo posso utilizzare la stata grottesca perché così mi evito il fallimento automatico anche perché se noi abbiamo buildato Ursula con tutte le sue capacità di migliorare il piede con l'action advantage con la prepista con il field work e così via molto sperso Ursula andrà a investigare tanto contro poco per cui sarà solo il fallimento automatico a darle fastidio altre carte che ovviamente funzionano sono Christopher o la lente di ingrandimento il dottor Milan Christopher o la lente di ingrandimento che sono carte tipiche degli degli studiosi quindi andiamo a concludere Ursula è un'investigatrice molto dinamica che ben interpreta la sua classe studioso che non ha assolutamente interesse e forza nel combattimento ha un discreta capacità di resistere al mazzo incontri ma soprattutto ha un'ottima velocità velocità che si traduce nell'action advantage cioè nella capacità di fare azioni senza utilizzare lo slot delle tre azioni che si hanno a disposizione quindi in true solo è un investigatore che può funzionare se buttate tutta la partita sul correre veloce e svuotare velocemente i luoghi in multiplayer assolve in maniera direi più che buona se non addirittura ottimo la capacità del seeker di raccogliere indizi aprendo luoghi vi lascio qui oltre alla rubrica con l'analisi di eroe in dieci minuti anche la puntata live in cui abbiamo discusso di una delle carte di cui abbiamo parlato dell'espansione di Danwich spero che questo video vi sia piaciuto grazie ciao alla prossima